Buonasera e benvenuti al primo appuntamento del progetto del cambiamento, un ciclo di 13 talks, incontri, dedicati al saper fare dell'industria italiana, alla sua sostenibilità e all'economia circolare. Parliamo di economia circolare nella produzione e nel consumo. Sono 13 gli appuntamenti che si svolgono durante l'Interni Designer's Week che si svolge a Milano dal 12 al 23 aprile e hanno luogo presso il Meeting Point all'Istituto Marangoni, sede della redazione digitale di Interni e saranno successivamente diffusi in streaming a partire da stasera ogni giorno alle 18.30. L'incontro di oggi è dedicato alla Svizzera, un confronto per il design italiano. Do quindi il benvenuto e ringrazio per essere qui con noi all'ambasciatore d'Italia a Berna, Silvio Mignano, a Carlo Maria Ferro, presidente ICE, Italian Trade Agency, a Giuliano Mosconi, che è presidente, CEO di due delle aziende italiane più rappresentative in Italia e all'estero, la Zanotta e Tecno, ad Antonio Citterio, architetto, designer. Grazie per l'invito. Che ha progettato alcuni dei capisaldi, se vogliamo, del design italiano che hanno fatto anche la storia del Made in Italy. A Riccardo Blumer, architetto, grazie di essere con noi, che dirige e direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio nella Svizzera italiana. Tema focale, il design, il design italiano e la sua internazionalità. L'Italia è un paese che si racconta e si fa conoscere nel mondo attraverso la sua storia e la sua straordinaria cultura, di cui il design, in senso lato del progetto e più specificatamente nei furniture design, è parte attiva e integrante. Esportare il design, fare conoscere i protagonisti della catena creativa e produttiva di questo settore, contribuisce ad affermare il ruolo di guida dell'Italia in questo ambito. Questo avviene anche grazie ad un'attività di promozione del sistema paese, oltre frontiera, attivato dalla Farnesina, Ministero degli Affari Esteri, attraverso l'istituzione, a partire dal 2017, degli Italian Design Day, che hanno consentito di comunicare al mondo i saperi dell'industria italiana e la sua creatività. L'incontro di questa sera, realizzato in collaborazione con ICE di Berna, mira a promuovere sul mercato svizzero la produzione italiana più originale e innovativa, legata quindi ai temi anche di grande attualità in questo momento, quali l'ambiente e la sostenibilità e l'innovazione. Stiamo parlando comunque di due paesi profondamente legati tra loro. Chiedo a Matteo Vercelloni, che è un architetto, nonché storico del design, di accompagnarci in questo racconto, facendo delle domande ai nostri illustri interlocutori. A questo punto mi alzo e cedo il posto a Matteo. Grazie a te. Le presentazioni sono state fatte, quindi iniziamo subito chiedendo all'ambosciatore Mignano un suo intervento. In Svizzera ci sono circa 650 mila cittadini italiani che vivono nel paese, ogni giorno avanti e indietro, 100 mila persone, i cosiddetti frontalieri, attivano il passaggio nelle frontiere, l'italiano e la lingua nazionale. Questi legami, queste storiche, culturali, tra le persone in fondo, perché sono paesi limitrofi, questi fattori storici, come secondo lei influenzano i rapporti commerciali del presente tra i due paesi? E come possono modificarli? Vorrei forse partire da un paio di immagini che possono essere significative, che solo apparentemente sono lontane dalla sua domanda. Io spero, naturalmente, che torniamo presto a poterci muovere liberamente e a visitare le nostre bellissime città, passeggiare. Se uno gira per Roma, ha una immagine visiva immediata. Roma, naturalmente, è tutto, è una città infinita, immensa, però ha delle caratteristiche immediate che sono legate soprattutto all'architettura barocca. Per esempio, Santivo e la Sapienza, uno vede la lanterna, un capolavoro quasi impossibile da realizzare, ma non sta a me analizzarlo dal punto di vista architettonico. È di un architetto svizzero, un architetto ticinese, borromini, che ovviamente la maggior parte dei italiani comprensibilmente considera italiano. In parte lo è per motivi di cultura, di lingua e di struttura dei territori, che all'epoca non era certo quella dei confini attuali, però comunque è un architetto ticinese. Oppure, se uno visita Santa Cecilia a Trastevere, vede quella commovente scultura della Santa, decapitata e non decapitata, morbida e triste nella sua dolcezza, è di un altro svizzero, maderno. Questo, come si collega alla sua domanda? Ci sono 650.000 italiani che vivono in Svizzera, sono il prodotto di una emigrazione in gran parte recente, giunta alla terza generazione, nata soprattutto nel secondo dopoguerra, anche se non mancano casi di discendenza più distante nel tempo. Ma è soltanto una fase storica molto importante di un legame umano, storico, culturale, linguistico, forse unico in Europa, se non nel mondo, l'unico paese a di fuori della penisola nel quale l'italiano è lingua nazionale, come dicevamo prima, un paese che ha, tra l'altro, la frontiera terrestre più estesa, nel caso dell'Italia, con 100.000 persone che ogni giorno si muovono tra un paese e l'altro per lavorare. È chiaro che questo incide moltissimo anche sull'aspetto del commercio, naturalmente, degli investimenti, di un'interdipendenza economica virtuosa, molto importante, e per quanto riguarda il tema di oggi, tornando a quelle due immagini con le quali ho voluto partire, l'aspetto proprio dell'economia, della creatività, delle imprese, della produzione legate alla cultura, alla creatività, quindi al disegno, per questo anche Maderno, per questo anche Borromini, è qualcosa che ci unisce profondamente, che probabilmente ha in Svizzera un mercato unico per l'Italia dal punto di vista del gusto e della profondità dei legami che ci uniscono. Grazie per queste due immagini che ci testimoniano appunto storicamente anche, sono esempi molto importanti del rapporto culturale tra i due paesi e tra le persone dei paesi. Quindi quali scelte potrebbero essere adottate dalla consapevolezza di questi legami, di queste radici comuni che appunto, come giustamente ha sottolineato, arrivano da lontano? Io credo che noi dobbiamo puntare moltissimo proprio su questi aspetti, cioè su un mercato che guardi molto alla qualità, non dimentichiamo che la Svizzera è, se non il più ricco, nel ristretto novero dei paesi con il reddito pro capito e più alto al mondo, che si possono puntare sulle punte delle dita di una mano, però non è solo ricchezza materiale, come dicevo prima, è anche un gusto, una raffinatezza, una cultura anche contemporanea, fortissima, che poi prescinde dall'Italia, che per fortuna è qualcosa anche di proprio degli amici svizzeri. Quindi tutto ciò che è innovazione, che è tecnologia, la Svizzera è un paese di avanzata ricerca scientifica, tecnologica applicata alla produzione, all'innovazione e noi italiani non siamo da meno, non lo eravamo proprio quando Borromini veniva in Italia e quando sappiamo che importanza ha sempre avuto nel nostro paese il rapporto tra la scienza, lo studio e l'arte e la creatività. Questo secondo me ci mette in una posizione di privilegio nel contesto svizzero, andando al di là del tema di questa settimana, è chiaro che settori come appunto l'alta tecnologia, le bioscienze, la farmaceutica, le macchine di precisione, ma tornando invece al nostro tema, proprio tutto ciò che è architettura, che è disegni, disegni interni, io credo che sia uno dei settori, per fortuna già molto presenti, nei quali l'Italia è probabilmente il paese principale per il mercato svizzero, ma che ha ancora margini molto ampi di potenziale estensione, su quale l'ambasciata insieme a Lice, insieme a tutto il sistema paese, con un rapporto molto buono, molto virtuoso anche con la Camera di Commercio di Turo Svizzera, deve e può, e sta già facendo molto per promuovere. Bene, grazie. Se mi permette una sintesi di questo suo ultimo pensiero, diciamo viene fuori un valore da mantenere e quasi da esportare della nostra cultura umanistica. Una cultura umanistica senz'altro abbinata alla scienza. Qual è stata la nostra forza? È un po' descritta dall'uomo vitruviano, e io credo, andando al di là della Svizzera, che è qualcosa di cui noi dobbiamo riappropriarci in Italia, la consapevolezza che i due ambiti non sono separati tra loro. Qui si parla molto di design, io credo che sia proprio il tema principale, perché il design non è solo creatività, non è solo cultura umanistica, ma è sempre più anche alta tecnologia. Le due cose non riesco a vederle separate, ma senz'altro, e ha ragione, hanno una radice umanistica molto forte. E ne ha Silvio Piccolomini, oltre ad aver inventato Pienza, ad aver creato tutto quello che sappiamo anche per l'umanesimo in Italia, da pontefice ha fondato la prima università svizzera, Basilea. Quindi c'è sempre stato questo rapporto molto forte. Il fatto che si parli italiano in Svizzera, il fatto che il gusto nella gastronomia, nel vestire, nel muoversi, sempre più è influenzato anche dalla cultura italiana, il fatto che ci siano quei discendenti italiani che arrivano a sfiorare il milione tra una cosa e l'altra, e che quindi ovviamente impongono nel senso più buono e gentile e pacifico del termine, anche una italianità nel tessuto sociale del Paese, sono tutti fattori che non possono non favorirci e sarebbe davvero un peccato non cogliere questa opportunità. E per fortuna credo che lo stiamo facendo tutti insieme. Carlo Mariaferro, parliamo di export. Dopo questo intervento ci spostiamo sulla situazione concreta, diciamo. Quali sono le prospettive per il nostro Paese, per le imprese italiane e, visto che parliamo di design, per il design italiano sul mercato svizzero? Io credo che la parola sia quella ripresa e lo spirito sia quello dell'ottimismo. Intanto siamo qua a un evento, di nuovo incontrandoci di persone, anche se un po' limitati, per celebrare l'eccellenza del Made in Italy sull'export e qua ci sono degli ingredienti importanti. Il peso del design di arredo per l'export italiano, che è il 5% dell'export del sistema a casa. Il peso del mercato della Svizzera per l'export del sistema a casa, che è di nuovo il 5%. Il ruolo degli Italian Design Days, in una design week ci sono 5 giorni, quindi c'è un po' la magia del 5 nell'importanza di questo evento. Ma restando sui numeri, il 2020 è stato un anno in cui l'export italiano ha avuto, come sapete, una flessione del 9,7%. Però io leggo in questi numeri tre ingredienti di conforto. Il primo è che questo dato è significativamente inferiore, almeno il 17% accumulato nei primi cinque mesi, che significa che da maggio in avanti c'è stata ripresa. Il secondo è che l'export italiano è andato sostanzialmente come quello della Spagna e della Germania, è andato meglio di quello della Francia e del Regno Unito, è andato molto meglio rispetto agli Stati Uniti e Giappone. Quindi abbiamo un apprezzamento apprezzamento del bello, del benfatto, della qualità del made in Italy nel mondo che ha consentito una significativa tenuta. L'altro aspetto importante è quello che alla fine l'export ha contribuito anche lo scorso anno per 63 miliardi al saldo positivo del bilancio dei pagamenti. Ecco, in questo direi che il design ha fatto un po' meglio perché ha fatto un meno 7,5%. La Svizzera, il design verso la Svizzera ha fatto ancora un po' meglio perché ha fatto un meno 5,6% e credo che guardando avanti queste tre ingredienti che stiamo affrontando, discutendo oggi, il design, la destinazione svizzera e il commercio online siano tutti e tre degli ingredienti a cui guardare con ottimismo soprattutto adesso che andremo spero rapidamente a riprendere anche delle attività di promozione più intense e più in persona. Ecco, da questo punto di vista lei ha recentemente affermato in un'intervista che occorre far sì che il made in Italy torni grande nel mondo. Quali sono gli strumenti, come possiamo fare le azioni per fare tornare il made in Italy grande nel mondo e specificamente quali sono le azioni che ICE intraprende in questo campo anche nel settore design? Io credo che ci siano sfide nuove e cose nuove da fare per affrontare le sfide di oggi e le nuove tendenze di domani ma ci sia anche poi da tornare progressivamente ai sistemi più classici come quelli degli eventi fioristici perché poi sono quelli dove nasce l'intuito umano che crea la relazione di business. ICE oggi fa 14 cose nuove nell'ambito dell'attuazione del patto per l'export cioè iniziative e servizi che 18 mesi fa non offriva le imprese. Tanti rivolti verso il digitale per esempio l'e-commerce e sull'e-commerce mi fa piacere essendo qua con l'ambasciatore Emignano ricordare che c'è un'iniziativa importante che riguarda proprio il design di arredo in Svizzera. Noi accompagniamo le imprese su 28 piattaforme di e-commerce nel mondo ne sponsorizziamo le visualizzazioni una di queste è Galaxus e per Galaxus la vetrina oggi è ancora limitata agli oggetti di disegno di arredo. Poi ci sono temi importanti di digitalizzazione della comunicazione la fiera smart 365 ma poi soprattutto credo è importante anche ritornare poter ritornare rapidamente agli eventi in persona. Il programma di settembre è intenso il Salone del Mobile di Milano OMI, Made Espo a Milano Sia Hospitality a Rimini Happy Business to You a Pordenone per questo settore è un investimento importante c'è uno stanziamento in queste iniziative che ho citato di circa 4 milioni di euro e io credo che veramente la ripresa del Salone del Mobile sia una priorità nella sua versione principale qua a Milano e anche nelle sue estensioni a Mosca e a Shanghai che sono poi in programma nei mesi successivi. Grazie. Ecco, prima di passare a chiedere a un operatore del settore come Giuliano Mosconi avevamo preparato un piccolo contributo per magari ricollegarci in chiave contemporanea a quello che ci ha raccontato con quelle due immagini significative l'ambasciatore cioè come la scuola svizzera che ha una sua identità molto forte ha in qualche modo influenzato anche il design italiano soprattutto in campo della grafica per esempio e io credo che sia una estetica della funzione quella che la Svizzera ha codificato dal dopoguerra in avanti e per esempio nella grafica se guardiamo l'immagine successiva ci sono dei nomi importanti Fred Toller che era influenzato dalla Bauhaus ma Max Bill che non era solo un grafico un architetto e pensiamo solo alla eredità che Massimo Vignelli e Bob Norda con la Unimark hanno assunto diciamo dalla Svizzera nella loro opera e nella loro carriera dal punto di vista della comunicazione la grafica svizzera ha fatto scuola tutti i giorni per esempio noi usiamo un carattere che appunto si chiama Elvetica che è stato inventato nel 57 da Max Miedinger che è un carattere modernissimo che rimane un classico per chiunque scriva con il computer il Fruttiger è un altro carattere molto importante del 76 e poi come non ricordare il coltellino che tutti dovremmo avere credo della Swiss Army della Victorinox che dal 1897 produce questo magico oggetto funzionale e multifunzionale ci sono poi delle sedie ce lo racconterà anche appunto il nostro ospite per esempio questa sedia Landi che era stata fatta nel 39 per l'esposizione nazionale da Hans Correy e che è appunto quando un oggetto diventa francobollo vuol dire che è un'icona un oggetto che per esempio ha venduto 50 milioni di pezzi che dal 1947 è ancora in produzione che può essere identificato come un oggetto un po' funzionale ma che in realtà è un oggetto di grande sapienza che è un pela patate il pela patate Rex o ancora l'orologio che dal 1944 troviamo nelle stazioni svizzere sembra disegnato oggi e che poi è stato trasformato in una collezione anche di orologi da polso tutti oggetti insieme per esempio alla sedia da spiaggia in fibrocemento loop un altro elemento che è del 54 e che ha una figura di grande modernità e contemporaneità il sistema del 65 della USM di mobili componibili che ha fatto scuola e che ancora oggi è in produzione un pezzo senza tempo oppure ovviamente l'orologio Swatch che tutti conoscete che ha in qualche modo salvato l'industria svizzera degli orologi che come ricordate ha chiamato designer italiani a collaborare qui ci sono due modelli di Bruno Munari e di Alessandro Mendini ancora un gioco di ping pong tra la creatività svizzera e italiana per finire con le famose borse della Freitag che vanno a diciamo a sottolineare il tema di questi incontri cioè l'economia circolare i fratelli Freitag avevano iniziato a fare queste borse che ormai sono di cult tagliando appunto i teloni dei camion allora sono pillole ovviamente si potrebbe scrivere un libro su queste cose chiedo allora appunto al nostro ospite a Giuliano Mosconi come secondo lui si trova che la scuola svizzera ha la semplicità la chiarezza nella grafica nel disegno degli oggetti la estetica della funzionalità di cui parlavamo prima abbiano influenzato o comunque abbiano attivato un rapporto dialettico con il design italiano del dopoguerra ma diciamo una piccola osservazione sui oggetti che passavano perché poi abbiamo toccato dei nomi che in effetti hanno disegnato per Zanotta hanno disegnato sia Mendini sia Munari quindi diciamo siamo in qualche misura a casa come la sede di Corai che è stata nel catalogo Zanotta dal 71 al 2001 quindi per 30 anni Zanotta è stato l'editore di questo pezzo quindi in qualche misura ci troviamo noi in una situazione molto corretta ma io diciamo c'ho una sensazione ecco non saprei quanto ha influenzato il design svizzero su questo tipo di discorso io diciamo così ho ricavato un'impressione di questa natura in Svizzera c'è un'attenzione particolare al pezzo singolo c'è una cura di dettaglio e questo magari lo riconosciamo su quali sono i prodotti che sono maggiormente venduti l'attenzione che c'è al periodo del razionalismo italiano diciamo l'attenzione che c'è ancora sulle corbosie sono dei mercati in cui le icone un po' del design italiano sono assolutamente rispettate e definite e qui diciamo su questo tema del chiamiamo così del pezzo singolo su questo tema del capolavoro credo che sia uno degli elementi che ci ha portato diciamo come gruppo Teccono in qualche misura ad avvicinarsi da notte e inserirla sostanzialmente nel gruppo ci sembrava ci sembra e in effetti è così una delle poche aziende che ha fatto del pezzo singolo l'insieme della sua collezione diciamo io mi sento anche responsabile per quello che è successo prima diciamo noi italiani siamo stati particolarmente bravi sostanzialmente prima della guerra ecco la guerra che intendo io è quella del 2008 della crisi finanziaria che ha modificato oggettivamente ha cominciato a modificare un po' i meccanismi di consumo noi siamo stati particolarmente bravi a raccontare al mondo che c'era uno stile italiano della casa che vinceva e siamo stati molto bravi a rappresentare questo stile e a vendere sostanzialmente un total look della casa e spesso parecchie aziende e di questo me ne sento responsabile per la mia vita precedente diciamo siamo riusciti a dire che quella forse era un'idea di casa italiana credo che oggi come dico spesso dopo la guerra oppure credo che la pandemia in qualche misura lo sta confermando ancora di più c'è una voglia c'è un sentimento verso prodotti che hanno un significato autonomo dove la singola persona cerca la soddisfazione mi viene da dire che più di uno stile in questo momento i consumatori cercano la soluzione a proprie passioni e questa idea che nasce un po' dall'idea che mi sono fatto io quando abbiamo lavorato nel mondo dell'ufficio nel mondo del lavoro e quindi sostanzialmente dei cambiamenti che la tecnologia digitale ha portato su questo tipo di discorso che c'è una sorta di atteggiamento duale più siamo tecnologici e più a casa andiamo a ricercare i prodotti che hanno un significato abbastanza importante Nello specifico ci può raccontare come Zanotta allora si è centrodotto nel mercato svizzero e come ha mantenuto il suo successo nel tempo è solo legato a questa idea della qualità del pezzo unico o avete sviluppato una strategia specifica su questo paese è stato sempre per Zanotta è stato sempre uno dei mercati importanti se noi nel mondo fossimo in grado di replicare quello che facciamo in Svizzera saremmo un'azienda particolarmente grande invece diciamo non è così quindi c'è un rapporto credo storico importante fatto di questa attenzione dell'attenzione alla qualità dell'attenzione alla diversità dall'attenzione qualche volta alla sorpresa qualche volta anche alla leggerezza che i prodotti di Zanotta porta ma l'attenzione ai grandi maestri quando abbiamo anche recentemente presentato i centi anni di Castiglioni tutti i nostri punti vendita della Svizzera sono stati in prima fila ad accettare a ricordare questi maestri la stessa cosa vale con Carlo Mollino con cui quest'anno abbiamo ripresentato rifocalizzato l'attenzione facendo anche il libro quindi c'è oggettivamente una grande attenzione su questa sono andato anche a guardarmi cosa che non sapevo un rivenditore di Berno che si chiama Zona 20 anni fa gli è stato fatto un prodotto esclusivo per lui che avevamo chiamato Zona quindi diciamo c'è questa attenzione molto personale su questo tipo di mercato un oggetto bespoke bene Riccardo Blumer buongiorno Riccardo tu insomma sei italiano ma sei anche svizzero un po' hai dei legami affettivi storici molto importanti e nella tua storia l'attività didattica ha sempre giocato un ruolo importante dalle prime cose nella scuola in questa esperienza lontana fino a oggi a diventare direttore appunto dell'Accademia di Mendrisio quindi volevo chiederti la tua esperienza come direttore dell'Accademia di Mendrisio che a tutti gli effetti è un istituto ormai un'istituzione che fa da ponte tra la cultura architettona italiana e quella svizzera sì l'Accademia intanto grazie per la citazione antica l'Accademia è un ponte verso l'Italia verso gli studenti italiani soprattutto di questo mondo che abbiamo citato bene e che è stato rievocato ma allo stesso tempo è una porta per loro del nostro mondo adesso io gioco sempre questo dico nostro a seconda che io sono nato e cresciuto in Italia ma sono svizzero e in questa seconda parte della mia vita diciamo terza perché sono più vecchietto sono praticamente lì no e quindi è importante prima citavate dei paesi citava dei paesi dove sono nati i grandi architetti è incredibile è vero è emozionante girare per questo pezzo di lago e sapere Maderno e poi quell'altro adesso l'ultimo il Fossati che è un po' più avanti che è quello del strutturato Santa Sofia però c'era già allora una relazione con l'Italia fortissima perché si formavano nell'accademia l'accademia di Brera erano già rivolti verso il mondo italiano quindi c'è un antichissimo legame in questo senso noi abbiamo più del 60% di studenti italiani il mio sforzo sarebbe di farne tornare qualcuno in Italia mi piacerebbe evidentemente in questo momento c'è un più però poi tornano io credo che sono delle formazioni che poi nel tempo perché sì diciamo che l'accademia di Mendrisio ha un rispetto posso dire diciamo alla tradizione un po' chiusa del Politecnico milanese ha delle aperture internazionali mentali un po' più vaste noi abbiamo un grande vantaggio va detto perché in Svizzera tu hai una deroga per i professori che li misuri sulla capacità professionale e non su quell'accademica e questo è un grosso vantaggio questa è proprio una deroga svizzera che è più attenta probabilmente a certi senti tu nei tuoi corsi nell'accademia ti sei occupato un po' di quello che interni fa da tanti anni cioè lavorare nel tema dell'effimero come sperimentazione per il reale avevi fatto dei corsi proprio sul tema dell'effimero e hai fatto anche dei progetti dell'effimero costruiti in Svizzera ci puoi raccontare questa esperienza tra didattica e realizzazione sul reale adesso addirittura sto facendo un corso di diploma sull'effimero è un grande tema del contemporaneo perché ci sono delle cose effimere ad esempio come le feste le grandi feste di popolo che poi sono religiosi sono civili sono parate che sono più antiche degli edifici che sono rimasti nella città e questo tipo di vita di comunità è un sistema quello della festa ma appunto della parata della ricorrenza ad esempio che è molto complesso che negli anni si è sviluppato ed ha veramente una costruzione incredibile anche la legge italiana distingue molto per avere i permessi è molto chiara nel distinguere il tipo di cose e queste oggi soprattutto in questo momento questo momento ce lo sta ricordando sono gli eventi dove la comunità si trova e per empatia costruisce un senso dell'essere assieme adesso ci sto facendo addirittura un diploma con gli studenti su una grande festa francese a Firmini che è la terza festa francese che è antichissima e medievale e sì ne abbiamo fatte tante e devo dire la Svizzera si presta anche perché ha una burocrazia piuttosto snella bisogna dirlo e per cui si presta anche per occupare dei posti in modo facile quindi andare nelle piazze andare nei capannoni dismessi muoversi con 120 140 studenti che non è così evidente e abbiamo costruito fatto concerti riusato la scalinata degli angeli di Lugano abbiamo invaso le piazze più volte con quelle che chiamiamo delle processioni degli architetti quindi la processione è uno dei grandi temi della festa pubblica e che tra l'altro adesso la stessa UNESCO ha come beni immateriali proprio viene riconosciuta questo tipo da anze strane qui siamo in piazza Lugano ad esempio questo tipo di attività è un'attività che seppur non perdura diciamo continuamente ha un perdurare invece come dire alternato che ha tutta una zona di preparazione tensione verso poi c'è l'evento e poi ricomincia la tensione verso questo è molto interessante perché crea una compartecipazione nelle città erano le grandi le grandi corporazioni ma ancora adesso se tu vai a vedere le più belle processioni italiane ne abbiamo tre in Italia che sono sotto il vincolo dell'UNESCO Mendrisio anche ne ha una è quella della Pasqua e sono le corporazioni che sorreggono a turno fanno cioè la città è fatta di persone che sanno fare cose delle partecipazioni così è un tema incredibile io credo che adesso è un tema che verrà accelerato quindi attraverso l'effimero oltre a pensare a delle forme delle architetture degli spazi utilizzi l'effimero per stimolare l'incontro questo tipo di effimero ha bisogno evidentemente di oggetti ha bisogno di macchine ha bisogno di costruzioni che appunto guarda che poi andando dentro a vedere l'Italia è stata Roma è stata cambiata un sacco di vie sono figli di eventi che producevano dei cambiamenti della città quindi la città sperimentava anche delle cose e poi rimanevano fisse allora c'è una zona come dire effimera che diventa poi la più solida che c'è ecco del senso anche stesso della città evidentemente grazie Antonio Citterio ha un rapporto con la Svizzera solido anche lui con l'Accademia di Mendrisio è stato docente ma non di design ma di architettura e quindi gli chiedo se ci vuole raccontare questa esperienza didattica che ha svolto fino a poco tempo fa come dicevi diciamo ormai 71enne non puoi più però diciamo l'esperienza che hai fatto a Mendrisio è stata importante e ci piacerebbe anche un tuo punto di vista su questo ruolo dell'Accademia come ponte tra cultura italiana e Svizzera beh la prima cosa vorrei ricordarvi che la cosa forse più bella era la fine corso con lo spettacolo di Riccardo Riccardo e i suoi studenti che facevano queste performance devo dire che Riccardo sono indimenticabili per cui veramente il lavoro che ha fatto Riccardo in Accademia è stato straordinario io ho fatto questa scelta di insegnare di fare la docenza in Svizzera e non in Italia perché era la dimensione la dimensione di Mendrisio che mi metteva in condizione di avere un rapporto molto personale con gli studenti perché i corsi al massimo avevi 25 30 studenti e avevi la possibilità di iniziare un progetto e di terminarlo con tutte queste persone che dedicavano un sacco di tempo e lavoravano giorno e notte e questa è la cosa la cosa più bella dell'insegnamento cioè che è quello che ti mette anche in condizione di continuare a studiare cioè io non ho mai studiato così tanto come non ho mai studiato all'università quando ho fatto l'università perché poi l'università l'ho fatto negli anni 70 dove il Politecnico per tutta una serie di motivi non aveva non aveva non si non si passava tanto tempo all'università praticamente io ho rifatto lo studente per 20 anni in accademia facendo il docente perché quando quando insegni hai bisogno di alcune certezze che ti vengono nel momento in cui tu ti informi e questa è stata forse l'esperienza più bella io sono legato alla Svizzera per migliaia di motivi ma sicuramente dal nonno dal nonno materno che è emigrato in Svizzera per questioni politiche negli anni 20 infatti la sorella di mia mamma era nata a Losanna cioè poi per tutta una serie di motivi ho sempre avuto questo rapporto questo rapporto con la Svizzera cioè a parte che da 40 anni io vado almeno uno o due volte al mese sono a Basilea perché da 40 anni lavoro con Vitra ho questo questo rapporto straordinario con questa azienda Svizzera anche se poi ha la fabbrica in Germania ma la creatività è a Basilea Bisfeld per cui poi negli anni i miei figli sono nati in Svizzera io sono architetto svizzero sto lavorando anche in questo momento in Svizzera come architetto per cui è una e per me è una cosa straordinaria la Svizzera non perché oggi stiamo parlando il rapporto fra l'Italia e la Svizzera ma perché la Svizzera come dire ha non ha la percezione della qualità ha la qualità sa cos'è la qualità e questa è una grande per uno che fa l'architetto uno che fa il designer vedi che le persone percepiscono i veri valori il valore della qualità che non è il valore del lusso è il valore della qualità cioè gli svizzeri sono anche cattolici ma la maggior parte della Svizzera è diciamo di cultura protestante questa cultura protestante probabilmente gli ha dato questa come dire questa sensibilità delle cose vere della non apparenza ma di cogliere i veri valori cogliere la che ritengo fondamentale cioè per un architetto lavorare lavorare in Svizzera è sempre anche un momento è un po' come studiare capisci che ci sono dei valori veri ed è per quello che poi il design italiano funziona in Svizzera un certo tipo di design italiano funziona qui vedete delle immagini mi vedete anche più giovani in certi momenti oppure no cioè sono 40 anni di immagini io a Bisfelden cioè che lavoro che sperimento nel centro ricerca e centro ricerca della vitra ecco invece ci raccontavi che stai lavorando come architetto ci puoi raccontare qualche quali sono i progetti che stai sviluppando in Svizzera? ma adesso sto lavorando sto lavorando a St. Moritz sto facendo diciamo di fronte all'albergo diciamo il più importante di St. Moritz sto facendo un altro albergo cioè l'albergo è il Palace adesso farò faccio l'edificio di fronte al Palace che sarà parte del Palace ma nello stesso tempo sto cercando con la città appunto di St. Moritz di lavorare sull'urban design per cui ho fatto un progetto non solo dell'edificio ma cercando di portare un disegno allargato che parte dal centro dal centro storico di St. Moritz che scende fino al Palace dove appunto sto lavorando sull'urban design cioè che da come faremo la strada da come faremo l'illuminazione da come faremo le scale cioè e speriamo di poter cioè credo che sia importante questo tipo di lavoro non pensare solo a un edificio ma di pensare anche a questo intorno certo però come come ho costruito costruito altre cose in Svizzera ed è sempre come dire un grande piacere perché la Svizzera ha questa organizzazione proprio mentale per cui si perde moltissimo non si perde si usa moltissimo il tempo nel progetto i progetti vengono definiti perfettamente e poi quando il progetto parte sono velocissime nel costruire perché non c'è niente di casuale e questo credo che per un architetto sia fondamentale certo bene io ringrazierei tutti direi che come diciamo proposito ci impegniamo a mantenere questo rapporto dialettico fra i paesi dal punto di vista culturale e in fondo anche affettivo anch'io ho un rapporto con la Svizzera perché la biblioteca di mio padre è nella tua scuola quindi è un fondo e sono contento che sia da te l'abbiamo appena fatta nuova la biblioteca lo so sono venuto grazie a tutti allora grazie grazie a te buonasera